La Fondazione Agnelli Con eduscopio è ormai diventato un punto di riferimento per insegnanti e per famiglie perché ogni anno va a monitorare la qualità delle scuole italiane. Il monitoraggio di quest'anno com'è andata? Come sempre noi ci attestiamo su posizioni apicali, anzi quest'anno siamo addirittura il primo liceo scientifico della Basilicata e questo ci inorghiglisce moltissimo. Eppure c'è stata qualche notizia non corretta perché non si è parlato del liceo scientifico di Melfi come scuola più importante della Basilicata che porta la laurea a tanti dei suoi studenti. Sì è strano perché il servizio del Tg3 ci aveva praticamente esclusi, in realtà noi abbiamo un indice che si attesta intorno a 76,45 rispetto al Galileo di Potenza che invece è del 74. L'indice che si calcola come professore? L'indice che si calcola in base ai diplomati, alle immatricolazioni e alle lauree e quindi noi attraverso questi criteri risultiamo il liceo più quotato dal punto di vista della formazione in Basilicata. Ciò che conta tuttavia e per fortuna resta il magnifico lavoro che si svolge nel liceo di Melfi. Noi siamo molto contenti anche perché questo è testimonianza del buon lavoro che stiamo facendo. Il nostro liceo è sempre stato un punto di riferimento del territorio e in questi ultimi anni abbiamo rafforzato le nostre prerogative, abbiamo diversificato la nostra formazione e devo dire che il gruppo docenti sta lavorando veramente molto bene perché ha saputo coniugare sia l'ambito scientifico sia l'ambito umanistico e quindi i nostri ragazzi sono veramente molto formati e ci stanno dando molte soddisfazioni.